Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo viaggio alla scoperta di Salva al Mondo. In questa serie di video ci soffermeremo sulle season di Ventura, ossia sugli appuntamenti stagionali che si alternano all'incirca ogni tre mesi sulla modalità PvE di Fortnite. Se vi siete persi l'introduzione della serie o volete sapere di più su Salva al Mondo, trovate due link utili in descrizione. Terra Italienti, sempre meglio di gole profonde. Terra Italienti è una delle missioni dell'avventura di Xylvania su Salva al Mondo e in questo video la vedremo nel dettaglio, incarico dopo incarico, soffermandoci anche su quel poco di storyline che Fortnite ci ha offerto. Casa Base ha una missione per te e Xylvania si prepara alla festa più sinistra dell'anno, ma i quartieri dei campeggi stanno per essere invasi dai temibili squartatori killer. Chiedi l'aiuto di Corvo e salva i campeggiatori dal massacro. Il mio consiglio è quello di portare a termine l'incarico il prima possibile perché anche in questo caso ci si trova di fronte a uno degli eroi più forti del gioco. Si tratta di un soldato, i cui vantaggi riguardano la lotta corpo a corpo. Oltre il grido di guerra, Corvo ha il micidiale destro e Mancino che è un'abilità del tutto devastante. Il primo incarico è Asce del Male, si trova sia nella schermata generale della missione che nel registro incarichi, sotto la voce Ventura, Terre Taglienti. Il giocatore è chiamato a distruggere sette asce degli squartatori. Come buona parte di questi incarichi non è possibile andarsene in giro per la mappa scegliendo il quartiere con i bonus migliori. Dobbiamo andare a Campo Ombreggiato, che è una vaga rivisitazione di Crystal Lake, la location del celebre venerdì 13. Ormai il livello di potenza del giocatore sarà tra il 10 e il 15, quindi con un comandante specializzato nel corpo a corpo e quindi magari un soldato, si potranno affrontare gli accampamenti di campo ombreggiato senza alcun problema. Fate attenzione a questo incarico, è completabile anche grazie all'aiuto della squadra, quindi potreste iniziarlo e finirlo nell'arco di una sola missione. Non come te, che per registrare il video hai dovuto farla due volte perché non riuscivi a trovare un'ascia da mostrare. Eh, sfortuna, poco da dire. In compenso, le asce sono sempre posizionate negli stessi punti, quindi vi consiglio di girare intorno al campeggio per trovarne tre o quattro sicure. Eccone una. Distroggetene sette e avanzate in terre taglienti. Il secondo incarico è a punti dal campo. Corvo si offre per la traduzione delle pagine del diario lasciate a Exilvania dagli squartatori, che sotto sotto siano simpatici. Oh, più di spugna sicuro. Casa base manda il giocatore a recuperare cinque pagine del diario. L'incarico può essere svolto ovunque, ma sempre meglio un quartiere che abbia gli XP Ventura raddoppiati. Le pagine del diario possono essere raccolte solo dal giocatore stesso, ma il fattore positivo è che sono sparse in mappa, anche nei prati, quindi vi basterà passarci accanto o far passare vicino un componente del team che l'oggetto missione risulterà sulla mappa grazie al solito punto esclamativo giallo. Eccone una. Raccoglietene cinque e proseguite in terre taglienti. Il terzo incarico è cos'è un telefono fisso. Corvo è convinto di poter aiutare gli squartatori a passare tra le forze del bene, quindi convincerei e Penny a organizzare una settimana di campeggio esclusivamente per i killer. Il compito del giocatore è quello di distruggere i falò e raccogliere 16 bastoncini di marshmallow per gli assassini. L'incarico può essere svolto solo nel quartiere di campo ombreggiato e i bastoncini possono essere raccolti dall'intero team di giocatori. Nonostante il numero di oggetti missione, ben 16, non sarà difficile trovare i falò. Infatti vi basterà girovagare per la mappa per imbattervi nei mocchietti di sassi e legna arza. Eccone uno. Distruggetene abbastanza da recuperare tutti i bastoncini e avanzate in terre taglienti. Il quarto incarico è zona senza agguati. Penny è sempre più entusiasta per il campo estivo degli squartatori ed è per questo che organizza un'escursione per farli socializzare tra di loro. Il giocatore è chiamato a raccogliere 5 zaini ed è esploratore per favorire la gita. L'incarico può essere svolto ovunque ma sempre meglio un quartiere che abbia gli XP Ventura raddoppiati. Gli zaini possono essere raccolti solo dallo stesso giocatore. Nonostante dobbiate cavarvela da soli, gli oggetti missione saranno ben visibili sulla mappa grazie al solito indicatore giallo. Raccoglietene 5, proprio come questo, e avanzate in terre taglienti. Il quinto incarico è in secca. Penny e gli altri animatori del campo hanno organizzato una gara in canoa per gli squartatori. Il giocatore deve recuperare 5 remi per permettere alla gara di essere realizzata. L'incarico può essere svolto ovunque ma sempre meglio un quartiere con gli XP Ventura raddoppiati, come al solito. I remi possono essere raccolti solo dallo stesso giocatore. L'incarico è semplicissimo, vi basterà trovare 5 remi, come questo, che di solito sono vicino ai corsi d'acqua per avanzare su terre taglienti. Il sesto incarico è seppelliamo l'ascia. Il campeggio non è andato un granché bene, infatti gli squartatori hanno capito che agli occhi del mondo resteranno sempre dei temibili killer, quindi stanno per andare via da Xylvania. Ray e gli altri animatori provano a farsi perdonare, allenandosi con l'ascia. Il giocatore deve trovare 5 bersagli in mappa. L'incarico può essere svolto ovunque, ma sempre meglio un quartiere che abbia già gli XP Ventura raddoppiati. I bersagli devono essere raccolti dallo stesso giocatore. Come gli incarichi più comuni, anche stavolta gli oggetti della missione saranno indicati con un punto esclamativo giallo. Trovate bersagli, come questo, e avviatevi verso l'ultima prova di terre taglienti. Il settimo incarico è Ai, il tuo occhio. Dopo l'allenamento a casa base non sono più gli stessi, tutti sembrano voler imitare gli squartatori. Per dimostrare di essere come loro, il giocatore deve eliminare 50 nemici con arma da taglio. L'incarico può essere svolto ovunque, ma come sempre è meglio scegliere un quartiere con XP Ventura raddoppiati. Stranamente è un incarico condivisibile con il team. In compenso sarà molto semplice portarlo a termine, basta armarsi di un piccone con la lama e avviare una missione corpo a corpo, come salva i superstiti. Eliminare 50 zombie sarà facile, e così facendo concluderete terre taglienti. Al termine del pacchetto incarichi riceverete Corvo in versione mitica, da sistemare nel registro raccolta o da includere in qualche build aggressiva. Ma sappiate che c'è ben poco da gioire, gli squartatori sono rimasti impressionati dall'ospitalità di di questa base. The Slashers have a message. You have treated us as friends, and challenged us to take steps outside of the campsites we know and love, and into the world. We will spread this message to every camp across the land, and soon our people will be free. Aw! Wait! Oh no! We've unleashed Camp Slashers on an unsuspecting world! Resta su House of Lama per scoprire di settimana in settimana tutti i segreti della stagione di ventura su Salva il Mondo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e raggiungeteci su tutti i social. Buon proseguimento su House of Lama!